Questa volta in maniera definitiva, 5.000 punti a neve e a neve. Come solito, base di studio dei primi giri. Come solito, base di studio dei primi giri. Campana di Nero Inverte, il prossimo giro, primi punti. Ancora l'atleta del Cassano a mantenere la testa, 7.55. 2-6-1 a manita. Hanno guadagnato il forte metro sulla campana, l'atleta del Cassano e l'atleta del Mese. Sul traguardo di Nero 20, punti a 5.50. 152. Anche lei ha un'unica. Hanno preso qualche metro, sempre le arlete del Cassano e l'atleta del Mese. Hanno preso qualche metro sulla testa, l'atleta del Cassano e l'atleta del Cassano. Hanno preso qualche metro, sempre le arlete del Cassano e l'atleta del Cassano e l'atleta del Cassano e l'atleta del Cassano. Nero 15. L'atleta del Cassano e 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 l'atleta del Cassano. Il gruppo vuole tornare a prendere la notte di Caracolotti, il gruppo è 3, 1, 1 e 65. Cabana di nera 13, il gruppo ha preso il gruppo. Prosegue su un passaggio di meno 12, dominoni, 3. Punto singolo a 206. Cabana al passaggio di meno 11. Il gruppo si allunga, il gruppo deve prendere la notte di Caracolotti, e prende con un po' i suoi due punti. Punto di nera 13, 155 a 90. Cabana del passaggio di meno 9, si vede sempre più solitaria la trenta di casa. e prende con un'altra giusta di casa. Cosa ti vede sempre più solitaria la trenta di casa? Non sono inutile sempre più solitaria la trenta di casa. Il gruppo è un'altra giusta, e si vede sempre più solitaria la trenta di casa. Quattro metro sul gruppo principale, la campana per il dominio inizio. Tra quarto numero sei, sempre la numero tre. Tra quarto numero sei, sempre la campana per il quadro sul gruppo principale. ... ... 25, punti, tre, guardi, rimanenti. 266 a Julio, a Monica e vai di vita. Pugli, numero 4, numero 3, 2, 1. Pugli, numero 3. 266 a Julio, a bambi, 3, 1. Pugli, numero 3. Pugli, numero 3, 1. Pugli, numero 4, numero 5, 3, 1. il finale di un'esercizio Pugli di un nuovo per la vita 1-3 sempre a 1-2-1 Il tutto si è volato per la cinta 152 Campana di un nuovo giro per la vita 1-3 l'Unione Anitta Pugli di un nuovo giro la visione e l'Unione la visione e la visione l'Unione Anitta Pugli di un nuovo giro Il вeno a 3 206, più punti e vedi Zanè un punto di prova.